Continuiamo a scoprire pianeti potenzialmente abitabili. Ma sono lontani anni luce. Siamo coscienti che un giorno ci arriveremo. La tecnologia ci porterà dove l'uomo non ha mai messo piede. Ma fino ad allora può già portarci dove non siamo mai stati prima. Non mi sono mai presenti leclerie. Siamo origini. S***